Buongiorno Daedo, dove eravamo rimasti? Non posso stare a recuperare tutti gli articoli, tutte le news e tutto quello che è successo durante questa settimana di buongiornissimi persi, ma posso andare a recuperare la cosa più importante, almeno la cosa fondamentale, quella che ha scosso un po' le fondamenta, il mondo di Linux e dell'open source, di cui si è discusso tantissimo, lo saprete già, molti di voi lo sapranno già, alcuni però no, facciamo un po' un recap e vediamo un po' come sono evolute le cose. Sto parlando naturalmente di tutta la vicenda relativa a Red Hat Enterprise Linux, quindi andiamo a prendere questa news di Ars Tecnica che fa un piccolo recap di quello che è successo, ne approfitto proprio per andare a raccontare. Allora, cosa è successo in pratica? Anzi, partirei addirittura da quello che è successo un paio di anni fa, era il 2020, tre anni fa, era il 2020, quando praticamente Red Hat uccise CentOS, che era una redistribuzione, una rebuild, un downstream di Red Hat Enterprise Linux, cioè appunto una versione completamente open, derivata dal loro codice sorgente, quindi dal codice sorgente di Red Hat. Loro avevano acquisito CentOS o CentOS, insomma, e in quel momento decisero di chiudere quella distribuzione, quei repository, e però lasciare aperti la versione di sviluppo chiamata CentOS Stream, che però è una versione appunto di sviluppo, non è una versione stable, non è una versione su cui si possono costruire distribuzioni stabili, men che meno usarla appunto come distribuzione installabile, e quindi quella rimane per chi vuole contribuire allo sviluppo di Red Hat Enterprise Linux oppure testare cose in stadi di sviluppo più avanzati, però non è una distribuzione usabile, non è CentOS, quindi in quel momento la community era piuttosto arrabbiata con Red Hat per quella decisione, soprattutto la community naturalmente di CentOS. Passano un po' gli anni, in realtà quella cosa nel frattempo un po' si chieta, le acque un po' si chietano anche se un po' l'arrabbiatura verso Red Hat diciamo che rimane, e qualche giorno fa arriva la seconda mazzata di Red Hat alla community. Cosa succede? Red Hat comunica in questo blog post, eccolo qua, Furthering the Evolution of CentOS Stream, CentOS Stream appunto quel repository, versione sviluppo, Ecco, cosa dice Red Hat? Che ora CentOS Stream rimane l'unico repository dove trovare i sorgenti open source di Red Hat Enterprise Linux. Tutti gli altri repository pubblici dove c'è il codice di Red Hat vengono chiusi. O meglio, non vengono chiusi completamente, rimangono accessibili a chi ha un developer account su Red Hat. In developer account su Red Hat ci sono versioni che sono free praticamente, sono per individual developers, sono account gratuiti e consentono di attivare fino a 16 server per testare appunto applicazioni sui sorgenti di Red Hat Enterprise Linux. Però questo non è il punto, naturalmente il punto è che il sorgente di, il kernel di Red Hat e tutto quello che serve per buildare kernel e distribuzione Red Hat Enterprise Linux viene bloccata, viene messa dietro paywall, quello che viene definito paywall, poi che ci si possa accedere anche con account gratuiti è un altro discorso. Perché il problema è che questo potrebbe violare la GPL. In realtà no, perché la GPL consente di proteggere il codice sorgente con pagamenti. L'importante è che lo si distribuisca. Poi che questa distribuzione avvenga dietro al pagamento di denaro non è importante. L'importante è che il codice possa venire distribuito. E quindi la situazione attuale è questa. Non è più possibile accedere pubblicamente a repository dove trovare il codice di Red Hat Enterprise Linux. È possibile farlo soltanto nelle aree amministrative dedicate a chi ha un individuo developer account o enterprise account su Red Hat. E quindi tutti i tool di build automatici, di download automatici che sfruttano quel repository per creare automazioni diventano inutilizzabili a meno appunto di escamotage che vanno a superare le login o le paywall diciamo definite. Naturalmente questo ha causato tutto la bagarre di discussione nella community di questa settimana. Quindi ora cosa succede? Succede che intanto le due principali distribuzioni derivate da Red Hat Enterprise Linux che sono Rocky Linux e Alma Linux hanno entrambe affermato che in qualche modo potrebbero continuare a fornire le loro downstream cioè proprio un codice derivato da Red Hat Enterprise sfruttando degli escamotage. Per esempio Rocky Linux e trovate queste informazioni anche su Foronix su come Rock Linux ha intenzione di diciamo bypassare i sistemi di autenticazione di Red Hat proverà a rendere disponibile il codice sorgente attraverso le Ubi Images le Ubi praticamente sono le Universal Base Image che sono quelle che Red Hat utilizza per fornire dei container buildabili su per esempio su Docker Hub per appunto consentire di buildare delle immagini su quel sorgente ecco da lì si può risalire al codice sorgente di Red Hat e questa sembra essere una via praticabile secondo quanto affermato appunto da Rocky Linux. Anche Alma Linux ha affermato che attraverso degli escamotage continuerà almeno proverà a continuare a fornire la propria distribuzione e il proprio servizio insomma in qualche modo. Cosa possiamo dire? Cosa viene fuori da questa vicenda? Viene fuori che Red Hat crea il proprio business prima ancora che il proprio anzi prima ancora il proprio software, il proprio business su Linux che è un oggetto open source disponibile gratuitamente quindi loro prendono Linux, prendono il codice di Linux e ci costruiscono sopra il loro la loro versione di Linux che poi redistribuiscono e a questo punto mettono un paletto e dicono a questa versione che io redistribuisco tu non puoi avere accesso a meno che non ti iscrivi, non diventi un mio utente che sia pagante o no comunque diventi un mio cliente diciamo ok? quindi loro cosa fanno? Quindi loro fanno questo, accedono a qualcosa di gratuito costruiscono sopra un prodotto, vendono questo prodotto a un certo punto cambiano le carte in tavola e decidono che le regole della GPL che erano valide fino a poco tempo fa non sono più valide perché il business richiede questo e lo fanno anche in maniera secondo me un pochino antipatica perché se voi andate a leggere i blog post di Red Hat, quelli che comunicano questi cambiamenti in particolare non tanto il post ufficiale sul blog di Red Hat ma il post successivo del 26 giugno di Mike McGrath che va a spiegare, a fare un po' di response un po' di risposta alla community su questa vicenda che vabbè, sapete quanto sono distrutti psicologicamente questi manager quando devono comprare delle scelte che sanno che creeranno scontento questa vicenda quindi l'ha molto provato psicologicamente però chiude con una nota parecchio antipatica insomma perché dice, adesso ve la leggo in inglese simply rebuilding code without adding value or changing it in any way represents a real threat to open source companies everywhere cioè questo significa che se tu prendi codice, cioè prendere il codice sorgente e redistribuirlo così com'è senza fare cambiamenti e questo è una minaccia alle compagnie open source tra virgolette quindi quelle che hanno costruito un business sull'open source e poi prosegue dice, questo è una vera minaccia all'open source e one that has the potential to revert open source back into a hobbyist and hackers only activity cioè questa attività ha il potenziale di rendere l'open source di nuovo e qui sottinteso come era una volta in qualche modo che era una cosa per hobbyisti e hackers posto che bisogna capire quando è che l'open source è stata una cosa per hobbyisti e hacker vista la storia dell'open source e mi riferisco alla storia intera da Unix in avanti quindi bisogna capire quando è che nella testa di McGrath l'open source è stata una cosa per hobbyisti e hacker ma che questo prendere del codice e redistribuirlo sia una minaccia all'open source stessa beh allora dovremmo andarlo a spiegare a tutti quelli che hanno costruito community attorno alla GPL che ha come fondamento proprio il diritto di chiunque di prendere il codice open source e redistribuirlo e non c'è l'obbligo di modificarlo o di costruirci sopra qualcosa o un business addirittura no, è semplicemente prenderlo e redistribuirlo questa è la base dell'open source qualcosa di open è appunto qualcosa che chiunque può guardare, osservare, anche copiare semplicemente e redistribuire e quindi basta, questo è quello che volevo dire su questa vicenda trovate comunque tutto, a parte il blog di Red Hat, su qualunque sito open source se cercate trovate qualunque informazione io mi sono basato su un articolo di Ars Technica da cui poi ho preso per andare a vedere le opinioni di qualcun altro per esempio molto interessante è quella di Jeff Geerling che è uno sviluppatore che contribuisce molto a Ansible, a Linux era sviluppatore 100S quando c'era è molto attivo nella community Drupal, ma a chi interessa e insomma ha fatto questo blog post il cui leggo solo il titolo Dear Red Hat, Are You Dumb? è abbastanza esplicativo poi anche un video sul suo canale YouTube dove appunto spiega che smetterà insomma di contribuire a Red Hat e di costruire cose su Red Hat perché non vuole farsi fregare due volte dopo essere già stato fregato con la vicenda 100S anche da quella di Red Hat peraltro lui che è contributore di Ansible sappiate che anche Ansible è un oggetto nell'ecosistema Red Hat perché è comunque una cosa di proprietà di IBM che è proprietaria anche di Red Hat quindi se voi andate sul sito di Ansible trovate tutto quanto redattato perché appunto la Red Hat Ansible Automation Platform è tutto Red Hat quindi vedremo cosa succederà anche a Ansible potrebbero chiudere anche Ansible potrebbero decidere che se questa è la loro filosofia se la filosofia del Vice President McGrath è coerente e loro la pensano veramente la possono applicare a qualunque progetto quindi anche Ansible domani potrebbe chiudere i repositori pubblici e renderli accessibili solamente dietro un'iscrizione o un paywall e naturalmente questo potrebbe discendere dalla loro filosofia e staremo a vedere questo è l'open source secondo Red Hat ci dispiace ci dispiace perché non è quello che sognavano i nostri padri per noi ma è così è e dobbiamo farcene una ragione ho fatto credo molti minuti ma non voglio lasciare le platee senza un commento alla vicenda di Twitter di questa settimana veramente imbarazzante con Twitter credo che stiamo raggiungendo i livelli più imbarazzanti della gestione di un software tutti i tempi credo che di aver mai visto tanta incompetenza che è successo per chi non lo sapesse due cose a stretto contatto che probabilmente sono correlate prima succede che Twitter blocca l'accesso pubblico ai tweet quindi è necessario creare un account anche per leggere i tweet pubblici ok? quindi non è più possibile andare da browser e quindi se trovate il link a un tweet in un articolo ma non siete loggati a Twitter non potete più aprire quel link e leggere il tweet delle persone anche se quel tweet era pubblico c'è bisogno di un account questo naturalmente viene fatto per bloccare gli scraping dell'AI tra l'altro AI ci sarebbe anche da dire vabbè Elon Musk stesso ha creato ha finanziato OpenAI agli inizi un'azienda che ha costruito il suo business sullo scraping di dati ma vabbè lasciamo stare comunque succede questo fatto dopo poco succede questo tweet di Elon Musk che per questo è del primo luglio per indirizzare diciamo questi livelli estreme di data scraping e di system manipulation che non meglio specificato system manipulation applicano dei limiti temporanei alla lettura di tweet e quindi cosa succede tre limiti gli utenti verificati quelli con la spunta blu sono limitati a 6.000 post 6.000 tweet la lettura di 6.000 tweet al giorno quelli non verificati quindi tutti quelli plebei normali solo 600 al giorno 600 post e invece tutti quelli che si sono appena registrati quindi new unverified 300 al giorno i limiti così random ovviamente non basati su no studiamo facciamo no random proviamo infatti poi subito dopo gli ha aumentati e tutto contento tweetava anche adesso abbiamo aumentato le cose i limiti sempre ovviamente sempre in produzione non è che si testano le cose no no tutto in produzione non è così allora lui normalmente dice no per lo scraping per system manipulation ma in realtà allora già rispondere allo scraping con limitiamo con valori random il numero dei post che un account può leggere è abbastanza no già imbarazzante di suo come gestione di come modello di gestione di un'infrastruttura o di un software ma se scaviamo un pochino non lo farò io ma l'ha fatto qualcuno tipo Sheldon Chang trovate questo questo suo tweet su Mastodon dove va a spiegare che scopre che dal client web di twitter ci sono due video ci vedono un pochino provo a aumentare un po' dal client web di twitter su ogni pagina c'erano migliaia di continue get alla timeline di twitter perché probabilmente questa almeno è la elucubrazione di qualcuno avendo impedito l'accesso anonimo ad alcuni end point twitter in questo modo blocca anche gli accessi del client web a qualche a qualche end point ma il client stesso non è preparato a riceversi a ricevere un blocco su questi end point quindi cosa fa riprova costantemente a connettersi riprova a fare la get da quegli end point e quindi fondamentalmente sta facendo un ddos su se stesso perché come vedete chi sta guardando da questa tab network dei developer tools c'è un continuo c'è un continuo fetch di risorse da twitter stesso che forse è la causa proprio di questo system manipulation che il buon Elon ha denunciato e così è siamo in questa situazione in queste mani ed è molto molto bello molto interessante pensare a quanti in questi anni hanno dipinto il signor Musk come un intellettuale visionario che ci avrebbe portato in una nuova era dell'internet e dell'umanità e invece blocca l'accesso a 600 tweet al giorno chiuderei ma chiuderei non posso chiudere senza citare il mio ormai caro amico reddit siamo a luglio e quindi è ufficiale la chiusura delle alcune app di terze parti perché naturalmente dal primo luglio le API diventano a pagamento insostenibili per alcuni attori e quindi mentre come ci dice The Verge alcuni sviluppatori di altri terze parti annunciano che le app saranno ancora disponibili ma con un subscription model quindi bisognerà pagare si parla di relay for twitter e now for twitter ma come si sapeva Apollo chiude definitivamente infatti sull'app dal primo luglio è visibile questa pagina questo ringraziamento questo thank you con anche una musichetta di fondo che malinconicamente ci dà l'addio a un mondo migliore ci vedremo in un'altra epoca però naturalmente lo sviluppatore non perde neanche l'occasione per indirizzarci a altre sue app in cui magari sostenere il suo lavoro questo vabbè nota a margine altre note su questo alcuni utenti di reddit naturalmente si sono sprecati in meme e tributi sui social per tutte le app che ci hanno lasciato che ci stanno lasciando in questi giorni e una cosa anche una cosa anche frizzante i moderatori che su reddit appunto moderavano perché bisogna usare il passato gli AMA quindi gli ask me anything di alcune celebrità sul famoso subreddit iama non faranno più questo lavoro non faranno più i moderatori quindi non ci sarà più una vera verifica delle domande delle celebrità delle risposte delle celebrità a quello che accade ma tutto sarà diciamo demandato alla community e questo è poi se vi leggete l'articolo di The Verge parla un po' di appunto una impossibilità intanto ad usare sistemi automatizzati con bot e server che gli servivano per fare meglio questo lavoro ma è anche un po' una risposta politica naturalmente ai cambiamenti che reddit fa sulla piattaforma senza ascoltare i suoi utenti i suoi sviluppatori e il suo ecosistema quindi è anche un po' una diciamo una protesta quindi da questo momento gli AMA su IMA non saranno più moderati dai moderatori ufficiali ma dovremo diciamo così stare più attenti e sperare che la community si autoregoli e che non troppe celebrità sfruttino questo meccanismo per fare i burloni e quindi la chiuderei qui grazie per avermi seguito vi do appuntamento a una prossima puntata spero in salute e quindi ciao direi proprio un bel ciao alla prossima ciao